Ciao, sono Daniele di Zegos, e oggi condividerò con voi un'analisi sui mercati finanziari elaborata dal nostro ufficio studi. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale. Commodities Report Se i crescenti timori di una recessione nell'eurozona potrebbero continuare ad esercitare pressione sui prezzi del petrolio, allo stesso tempo continuano a persistere dinamiche tali che alimentano una sorta di tiro alla fune che al momento vede una maggiore possibilità di osservare candele verdi, quindi acquisti. Sul grafico del VTI, la Federal Reserve ha si mantenuto i tassi di interesse ma ha irrigidito la sua posizione aggressiva, esercitando un peso sui prezzi di specifiche materie prime. Con il valore del dollaro in rialzo, ma le decisioni da parte dell'OPEC Plus forniscono certamente quella solida base. Una vera e propria linfa vitale che non consente di ridimensionare la quotazione dell'oro nero. L'Arabia Saudita ha necessità di mantenere i prezzi decisamente sopra gli 80 dollari al barile piquei sauditi. Hanno bisogno di entrate petrolifere elevate al fine di finanziare anche quei progetti di sviluppo decisamente ambiziosi. Pertanto, sono particolarmente interessati a far salire i prezzi del petrolio per finanziare Vision 2030, un piano ambizioso per riformare l'economia del regno, ridurre la sua dipendenza dal petrolio e creare posti di lavoro per una popolazione giovane. Il piano prevede diversi progetti infrastrutturali di grande portata, tra cui la costruzione di una città futuristica da 500 miliardi di dollari chiamata Neom. L'Arabia Saudita è il più importante paese dell'OPEC+, ed il petrolio rappresenta il 70% del valore delle esportazioni ed il 53% delle entrate del governo. La decisione arriva prima della stagione di riscaldamento invernale e segue appunto la mossa dell'Arabia Saudita, all'inizio di questa estate di ridurre la produzione di petrolio greggio di un ulteriore milione di barili al giorno. Questa scelta potrebbe potenzialmente influenzare i prezzi della benzina anche negli Stati Uniti. Dall'altro lato dell'oceano, nel vecchio continente, continuiamo ad importare inflazione, con un valore del dollaro in rialzo ed un petrolio che continua a guardare la parte alta del grafico. A livello mondiale, la stessa domanda è certamente ripresa dai minimi caratterizzanti il periodo della pandemia. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha rilevato la richiesta di greggio a raggiunto, ad esempio, il massimo storico pari a 103 milioni di barili al giorno nel mese di giugno. Dal punto di vista grafico confermiamo la nostra prospettiva, cioè quella di vedere un greggio ricalamitato in area 93 dollari al barile, i valori più alti testati nei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno. Solo l'eventuale superamento al rialzo di tale livello potrebbe alimentare ulteriori fasi di acquisto e spingere il VTI verso i 100 dollari. Il superamento al ribasso, invece di area 86 dollari al barile potrebbe generare altre vendite sino a far rientrare la quotazione. All'interno di quel precedente trading range perimetro tra i 72 e gli 82,50 dollari al barile. Qualcuno potrebbe pensare al palesarsi di prese di beneficio, possibili correzioni, perlomeno nel breve periodo ma i rialzi sono sempre dietro l'angolo. Basti pensare, ad esempio, che il deficit previsto per il prossimo trimestre potrebbe aggirarsi intorno ai 3,3 milioni di barili al giorno. Gli hedge fund si stanno accumulando nel mercato petrolifero scommettendo che i prezzi supereranno presto i 100 dollari al barile, aggiungendo slancio al rally innescato dai tagli alla produzione e alle esportazioni da parte dell'Arabia Saudita e della Russia. La proroga fino a dicembre del taglio petrolifero di 1 milione di barili al giorno da parte di Riad Affiancata. Dalla decisione di Mosca spinge la quotazione. E poi la struttura di mercato continua ad essere in backwardation, ossia abbiamo una curva forward rivolta verso il basso. La curva forward è una linea che unisce i prezzi dei futuri di una materia prima con scadenze differenti. Praticamente si crea quando la domanda supera l'offerta e quindi i prezzi con scadenze più vicine risultano più alti rispetto a quelle successive, quindi il prezzo a termine del contratto futuro è inferiore rispetto al prezzo spot. Lo spread tra i contratti di dicembre 2023 e dicembre 2024 ha ormai raggiunto i 10 dollari al barile. Questa profonda retromarcia nella curva forward suggerisce che i trader sono ottimisti sul fatto che i prezzi del petrolio siano destinati a salire ancora. Sui prezzi del greggio hanno pesato e continuano ad influire anche i livelli di stoccaggio che vengono pubblicati ed aggiornati ogni settimana dall'EIA che segnala una costata riduzione delle scorte di oro nero. Volumi record di petrolio greggio sono stati importati in Cina durante la prima metà del 2023 a causa dell'espansione delle raffinerie nel paese e delle iniziative per riaprire l'economia dopo che il governo ha allentato le restrizioni alla mobilità dovute al Covid-19. La Cina ha importato una media di 11,4 milioni di barili di petrolio greggio al giorno nella prima metà del 2023, con un aumento del 12% rispetto alla media annuale del 2022 di 10,2 milioni di barili G. Nella prima metà del 2023, le importazioni di petrolio greggio della Cina sono aumentate da 8 dei 10 principali paesi da cui ha importato petrolio greggio nel 2022, secondo i dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane Cinese. La Cina ha acquistato gran parte del petrolio greggio aggiuntivo importato nella prima metà del 2023 da Russia, Iran, Brasile e Stati Uniti. Rispetto alle medie del 2022, le importazioni cinesi dalla Russia sono aumentate del 23%, 400 mila BG, dall'Arabia Saudita del 7%, 130 mila BG e dal Brasile del 49%, 250 mila BG. I 2,6 milioni di barili al giorno di petrolio greggio che la Cina ha importato dalla Russia a giugno, rappresentano il volume più grande che la Cina abbia mai importato da qualsiasi paese in un mese. Le importazioni cinesi dagli Stati Uniti nella prima metà del 2023 sono più che raddoppiate rispetto al 2022. Per maggiori informazioni visita il sito www.zegosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a infochiocciolazegos.com Zegos offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti.